A minacciato con un coltello una donna e due bambini è stato fermato un uomo che si trovava nei pressi di un esercizio commerciale a Carlentini da parte dei carabinieri. L'uomo è stato disarmato dai militari, dichiarato è stato di arresto, dagli accertamenti è emerso che l'episodio appena accaduto rifletteva analoghe condotte per il re opponeva in essere nella quotidianità, difatti la donna a quel punto è riuscita ad esternare i sorprusi, le umiliazioni e le violenze subite nel corso degli anni. Il compagno era solito avere atteggiamenti similari anche nei confronti dei due bambini che sono cresciuti in un perenne stato d'ansia e di terrore e al quale lei stessa non era mai stata in grado di reagire per timore di più gravi conseguenze che le avrebbe dovute subire lei ma soprattutto i propri figli. L'uomo disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, dopo le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione dalla quale invece sono andati via sia la compagna che i figli che sono stati ospitati in momentaneamento e presso alcuni familiari. Arrestato dai carabinieri un uomo trovato in possesso di 3 kg di marijuana e di vario munizionamento per fucile, si tratta di Mirko Tomasello, classe 1991. I militari, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all'interno di un vasetto di vetro riposto all'interno dell'arredo dell'abitazione dell'uomo 30 grammi di marijuana. Il fiuto dei cani però ha portato altressì ad estendere la perquisizione nel terrazzo. Qui venivano ritrovati una piccola serra dotata di un efficiente impianto irriguo con almeno tre pianti di cana pendiana dall'altezza di due metri e mezzo e poco distante dal vivaio, nascosti all'interno di un pozzo, due sacchi di plastica e uno di juto contenente 3 kg di marijuana già essiccata e pronta ad essere messa nel mercato. In più è stato ritrovato 120 cartucce per fucile calibro 12 e calibro 16 mai dichiarati. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Intanto in provincia aggiungono tre nuovi ufficiali dei carabinieri. Si tratta di il maggior Stefano Santuccio di anni 47, siracusano, il tenente Sebastiano Russo di anni 42, nativo di Enna, e ancora il tenente Valentina Bianchini di anni 27 della provincia di Treviso. Verranno reclutati dal comando della compagnia di Augusta, a Siracusa il comando del nucleo operativo e a Noto. È stato pubblicato nella gazzetta ufficiale l'avviso pubblico per l'indizione dell'azienda sanitaria provinciale di Siracusa dei concorsi per titoli e colloquio per direttore delle strutture complesse del ruolo sanitario, dell'area ospedaliera, dell'area territoriale e delle diverse discipline, in cui i posti risultano in atto vacanti nell'attuale atto aziendale confermati nella nuova rete ospedaliera approvata con un decreto sessoriale. Il bando è reperibile anche dal sito dell'azienda www.asp.sr.it nella sezione bandi di concorso. Si intratta di 38 posti di direttore di unità operativa complessa. È riguardo nel presidio ospedaliero Umberto I di Siracusa, all'area territoriale e i presidi ospedalieri di Avola, Lentini e Augusta. Iniziativa al comune di Bucchieri, proficuo l'incontro tra il sindaco Alessandro Cagliazzo e il direttore dell'Istituto Autonoma e Case Popolari di Siracusa a Cannarella, finalizzata la condivisione di un percorso comune teso a recupero del centro storico del comune più alto degli Iblei. Nello specifico, il comune di Bucchieri intende avviare una ricognizione di tutti gli immobili insistenti in un determinato segmento del centro storico di Bucchieri che allo Stato risultano disabitati da tempo in cattivo stato di manutenzione per poi procedere alla requisizione degli stessi per una possibile e duplice finalità. Uno, rimetterli sul mercato a prezzo molto basso imponendone la ristrutturazione entro un breve lasso di tempo. Due, creare le condizioni per un'edilizia popolare diffusa e tentende a rimettere nel circuito immobili per famiglie che ne faranno richiesta. È stata avviata oltretutto un'interlocuzione con la Facoltà di Architettura di Siracusa in una prospettiva di valorizzazione del tessuto abitativo del centro storico. Il comune di Floridia informa che ha messo a disposizione l'ufficio della Proloqua presso Piazza del Popolo XV per la vendita diretta dell'abbonamento per gli studenti pendolari. L'ufficio sarà aperto nel pomeriggio, venerdì 27 e lunedì 30 settembre, dalle 17 alle 20 e sabato 28 dalle 11 alle 14. L'abbonamento è del costo di 90 euro con una ditta privata. Sui social i cittadini si rivolgono al sindaco Limoli chiedendo un intervento visto che la somma non può essere corrisposta dalle famiglie meno abbienti. Fioccano le proposte di rinunciare alle proprie indennità per poter pagare servizi ai piccoli e grandi studenti di Floridia. Armati di guanti e sacchetti, cappellino in testo accompagnati da loro insegnanti, nella mattinata di oggi gli alunni della scuola media del primo istituto comprensivo Verga di Canicattini-Bagni hanno raccolto differenziandoli i rifiuti che hanno trovato sparsi in piazzetta San Giovanni e in piazzetta Dante Ligieri e nelle aree adecenti e in via Mentana sino al piazzale del cimitero. L'iniziativa nasce all'interno del percorso didattico intrapreso dalla scuola nell'ambito delle manifestazioni Wednesday for Future che in questi giorni si stanno svolgendo in tutto il mondo. Appuntamento con la musica al Teatro Comunale di Via del Teatro 6 a Siracusa dove domenica 29 settembre alle ore 19 si esibiranno Riccardo Porrovecchio al violino e Gianluca Badon al pianoforte. L'iniziativa voluta dall'Associazione Siracusana Amici della Musica per la stagione concertistica 2019 e 56esima dalla Fondazione col patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Siracusa.